Smaltivano illecitamente i rifiuti anziché trasportarli presso una discarica autorizzata. A rispondere della violazione di legge e di natura ambientale saranno tre persone, il direttore dei lavori di un edificio scolastico in fase di realizzazione a buon abitacolo e i due legali rappresentanti delle ditte di costruzione, entrambe con sede nel valo di Diano. Nella giornata di ieri, a seguito di uno specifico controllo eseguito da parte dei carabinieri della locale stazione presso il cantiere di ristrutturazione del futuro complesso scolastico, i militari hanno appurato che i materiali di risulta non venivano regolarmente depositati come da contratto con l'ente pubblico appaltante, ma condotti presso un'area di proprietà di una delle due ditte interessate ai lavori situata ad Atena Lucana. I tre coinvolti nella vicenda sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi. Sono invece stati sequestrati il cantiere e l'area di vita illecitamente discarica, due scavatori e un frantoio mobile, il cui valore si attesterebbe intorno ai 600 mila euro. I lavori, ha detto il sindaco di Buonabitacolo, riguardano la creazione di un istituto comprensivo finanziato dalla regione Campania con tempi di realizzazione fissati a lunga scadenza. La loro sospensione, ha dichiarato Rinaldi, sarà temporanea, ma non voglio andare oltre, ha concluso il primo cittadino, il quale, alla domanda come procederà il Comune in merito a tale situazione, ha risposto di non voler rilasciare ulteriori dichiarazioni, limitandosi a riferire quanto comunicato dai carabinieri sul caso.